Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi adotteremo la Giada perché è una bambina e per prendere una casa è praticamente una storia Ok, andiamo Eccoci arrivati al centro di adozione e oggi adotteremo una bambina Che carina questa Vieni Eppure senza gamba, wow Ok, andiamo a casa La casa è di manso volare Stai Stai Ok, prendiamo la casa E prendiamo una casa Non in senso amico Ho detto come se fossero degli scandisti Sembrava un po' amico E ti sei fosse il labbro quando l'hai detto E poi ho detto la parola scandisti Beh, e siccome il mio colore preferito è celeste Mettiamola di colore Di colore celeste Si, 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 si Se prendiamo una grana più grossa Vedrai che è più ruvido Potremmo fare una cosa del genere dappertutto Senti che si tratta Entra figlia Chiudiamo la porta Andiamo giù E gli mettiamo il parco Mettiamogli il parco Mi sono sicura che cambierà la loro qualità di vita Non è solo molto bella Come me Non sono solo molto bello Ragazzi, è vero Puoi andare figlia Ti ho messo il parco Io vado a preparare il pranzo Oggi Laviamo le mani Vediamo il pavimento nella sala principale E nella sala di gym E ricopriremo anche la scalinata Credo che sia un bel modo di legare gli spazi Usare lo stesso dito di legno e lo stesso ruolo Vediamo cosa c'è in frigo Ok Preparo la cucina Ok Chiamo mia figlia Ok Ok Chiamo mia figlia Eccola Ok Vai nella tavola Ok Aspetta che porto il cibo Ci sediamo nel tavolo Mangiamo Ok Ok figlia Ora giochiamo a nascondino Eccoci Giocheremo a nascondino adesso Io conto Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E Dieci Adesso Mi vedrete in prima persona A cercare Ovviamente scherzo Non mi vedrete in prima persona Certo Dove cavolo sarà Dove cavolo sarà Secondo Qualsiasi Però tipo A me ci vorranno tre Secondo Secondo me Nel tubo rosso Non riesco a salire Sono riuscito a salire Ora andiamo E a quanto pare non c'ero in questo tunnel È in un tunnel verde Mi sa Un po' di verde Ti aspetta un attimo Per favore Tu cerca d'altro Pazio di Gino Ma che c'è? Che non trovo Un tunnel verde Non lo trovo Non la troverò mai Ho capito Ma allora ti do un indizio Vai No Ragazzi aspettate Che è successo Una roba Ora la cerco Bene Questa Ragazzi Allora Aspettate che Scusate Ragazzi Perché S'era disconnesta Perciò tipo Voi non avete visto Che non siamo entrati Per un po' Ma no Ci abbiamo messo un po' A prestare Capito 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 Come cavolo hai fatto Andare Ah Ho capito Capito Nei tubi celesti Sei Ehm Aspettate che Il colore dentro Non c'è E allora dove sei? Aspettate Che succede? Oh mio Dio Vediamo Una cosa sbagliata Incredibile Incredibile Ok puoi cercarmi E dov'è? In un tubo Verde Tubi verdi Non ci sono Volevo dire tubo viola Ok ce ne sono tre Ok scendo Ciao ci vediamo al prossimo video Ciao ci vediamo al prossimo video Anche se è la seconda parte di questo video qua Perché non dobbiamo ancora finire Cioè l'abbiamo finito Solo che c'è la seconda parte Ok ciao 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 Ciao